Ci troviamo in un parco fluviale a Mirafiori Sud, questo è un parco un tempo abbandonato che stiamo cercando di riportare all'uso e alla fruizione della cittadinanza locale. Uno dei nostri obiettivi è quello di permettere alle persone sia di accedere a del verde pubblico e sia di poter portare avanti delle pratiche un po' costruttive, perché quello per cui si è sempre caratterizzato questo parco è un uso agricolo. L'orti generali è un modello di trasformazione e gestione del verde pubblico, di modo da permettere a tutti di affacciarsi al mondo dell'orticoltura urbana. Oggi si compone di due aree, una di circa 3 ettari, parcellizzata in 160 orti che vengono assegnati a famiglie, gruppi di amici, persone che decidono anche per la prima volta di coltivare e una invece adibita a fattoria didattica, un polo di formazione sia per le scuole che per chiunque voglia imparare tutto ciò che concerne sia l'agricoltura che tutti i temi legati alla gestione di una fattoria o all'ambiente, all'apicoltura. Questo secondo spazio di fattoria vuole anche un po' portare avanti alcuni progetti sia di inclusione sociale sia di produzione di ortaggi a beneficio dell'intero quartiere. A marzo del 2019 avevamo realizzato gli orti da assegnare per l'autoconsumo e a giugno del 2019 siamo riusciti ad assegnare tutti gli orti, tutti i 160 orti, perché la richiesta effettivamente era molto forte. Uno dei punti del nostro regolamento è proprio quello di non poter utilizzare nessuna sostanza di sintesi chimica per cui nessun trattamento non concesso nell'agricoltura biologica. Da subito ci siamo immaginati che ad affacciarsi all'orticoltura non fossero solo addetti ai lavori. Abbiamo quindi pensato un costante presidio e una presenza di figure come le nostre. Abbiamo affiancato alla nostra presenza del materiale tangibile come delle guide che abbiamo offerto ai nostri ortolani e poi anche invece uno strumento tecnologico. Nel nostro caso si tratta di una centralina meteo che rileva con dei sensori di umidità del terreno, di umidità dell'aria, temperatura, forza del vento, bagnatura fogliare, eccetera. Un dato che poi viene convogliato per governare una pompa del pozzo e quindi garantire un sistema intelligente di uso della risorsa idrica. È presente qui in fattoria un orto collettivo, quindi un orto che viene coltivato con i volontari del quartiere per un fine legato alla beneficenza qui nel quartiere, ossia la donazione di un prodotto fresco alle famiglie del quartiere che hanno bisogno perché in difficoltà economica. Orti Generali raccoglie tutte le eccedenze degli orti degli assegnatari per donarle allo snodo della casa del quartiere di Mirafiori Sud, la casa nel parco, all'interno del quale confluiscono anche le produzioni del nostro orto collettivo. In fattoria sono presenti anche un pollaio che presto diventerà un pollaio collettivo, quindi di cui si vuole offrire una gestione condivisa che oggi ospita 5 galline e 1 gallo e delle pecore che ci permettono di mantenere l'erba, il prato in ottimo stato e di offrire alle persone anche la possibilità di scoprire cosa vuol dire gestire degli animali da fattoria come delle pecore. Ci sono delle sdraio perché una delle nostre intenzioni era quella anche di ricordare che quello che viviamo oggi era un tempo il Lido del Sangone, quindi un luogo di villeggiatura perché non si poteva permettere una villeggiatura al mare o differente più costosa, soprattutto anche grazie alla nascita del chiosco. Un tempo una casetta dei guardiani di una cava di sabbia è stato poi da noi un po' ripristinato e accatastato e legittimato diventando un chiosco, quindi un punto di somministrazione di cibi e bevande e dà la possibilità a questo posto di diventare un luogo anche di luasire, di piacere. Per me l'Italia che cambia è poter partecipare alla rinascita di un bene comune, di uno spazio in cui ognuno mette le proprie risorse, le proprie competenze per far crescere un progetto comune e far rinascere e valorizzare un posto.